Ed eccoci, buon venerdì pomeriggio, cari amiche, cari amici, siamo qui, sono le ore 16, con tutte le amiche di Canale Italia 126, 4 ore di diretta insieme, come vi avevo anticipato domenica, abbiamo un po' di belle occasioni in oro 18 carati, sempre tenendo presente che sono occasioni da investimento, perché sapete che l'oro alle stelle, siamo a 35,30, quella guardiamo se mai insieme senza problemi la quotazione, ancora per oggi state acquistando ovviamente sull'oro a 30 euro al grammo, quindi super investimento e liquidazione eccezionale per tutte le amiche a casa su una linea di argento d'altotitolo 925 firmata a Calgaro. Ultimissimi pezzi, quindi amiche, fino ad esaurimento merce, andiamo a scontare tantissime prenotazioni anche sulla linea in argento, venerdì scorso sulla linea Calgaro, tante belle prenotazioni, le clienti molto contente, io sono molto veramente soddisfatta quando sento che le nostre clienti, i nostri clienti maschietti femminucci, non si può sempre solo parlare al femminile, perché oggi anche i maschietti di gioielli se ne intendono, sono soddisfatti. Quindi oro 18 carati, 30 euro al grammo, prezzo diffusione con l'oro alle stelle, un pezzo per, quindi sapete che non abbiamo i doppioni, quindi chi lo ordina deve essere sicuro di acquistarlo, perché altrimenti poi finisce in una black list, in una lista nera, perché se poi l'incaricato fa i chilometri, arriva a casa per consegnare e poi o non si fanno trovare o non rispondete, poi i vostri nominativi finiscono in una lista nera e non possiamo più ovviamente prendere le vostre ordinazioni. Io devo dire la verità, per quanto riguarda il venerdì, i miei clienti sono davvero molto precisi, di solito quello che confermano acquistano sempre, certo qualche volta, magari non piace l'oggetto, quello è tutto un altro discorso, ma sono davvero speciali, io li ringrazio davvero a tutti. Prossima settimana vi do già un'anteprima, avremo tantissime occasioni, oggi ne abbiamo, sono cose un pochino più piccole, prossima settimana vi prometto tante belle cose, perché non sono riuscita ancora a ripulire e a sistemare la merce, quindi per venerdì prossimo tenetevi pronti. Intanto però acquistate queste cosine che sono comunque belle, abbiamo anche qualche pezzo con diamanti, con brillanti in occasione, non a 30 euro al grammo ovviamente, perché ci sono cose che a 30 euro non si possono dare, ma super scontate, fidatevi di me. Noi ormai ci conosciamo, abbiamo abbastanza confidenza per credere l'uno all'altro, poi qualsiasi cosa vogliate rivedere durante il corso della diretta, c'è Luca, c'è Luisa il centralino e c'è Giuliano in appoggio, quando i centralini squillano troppo, Giuliano mi lascia qua da sole e va a dare una mano e ovviamente Max in regia. Tutto il gruppo vi saluta, vi ringrazia, io saluto a casa, saluto mia mamma che sarà lì che mi guarda, gli mando un bacio grande, saluto tutta la mia famiglia come sempre e tutti gli amici che da casa e da Genova ci seguono, li saluto e li abbraccio tanto. Bene, attenzione, per rimanere in tema di liquidazione, per rimanere in tema di Calgaro, il primo loco...